Ma guardi, devo dire la verità, non è un dibattito quello fra Conte e Grillo che mi appassiona particolarmente. All'inizio mi ha fatto un po' sorridere, adesso credo che stia diventando anche quasi un po' patetico. Devo dire la verità, ho sentito prima in studio che si diceva che la coerenza non è tutto in politica e che in Italia siamo abituati a qualunque cosa, probabilmente dovremmo iniziare a chiederci se invece non sarebbe meglio tornare alla coerenza e avere delle linee chiare. Dopodiché io non credo che i partiti si costituiscano in Parlamento. I partiti nascono sulla idea di fondo, su una visione dell'Italia, su dei programmi e si inizia a lavorare in mezzo alla gente e del resto, insomma noi di Fratelli d'Italia credo che siamo proprio la rappresentazione plastica di questo. siamo entrati in Parlamento al 5% e piano piano attraverso il nostro lavoro sui territori oltre che ovviamente nelle istituzioni siamo cresciuti, ma siamo cresciuti perché abbiamo un'idea, abbiamo una visione, abbiamo una linea e abbiamo una coerenza e quella devo dire insomma in questo caso ha pagato. Ora io dubito fortemente che ci saranno dei contraccolpi al governo perché considerato l'attaccamento che i grillini, perché non dimentichiamo che i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono chiamati da tutti, anche dai giornali, i grillini, un motivo ci sarà, insomma quindi forse dovremmo ritornare a questo. Però il loro attaccamento alla poltrona, a questa legislatura, l'incertezza di quello che potrebbe succedere alle prossime elezioni, io credo che farà divenire tutti a più miti consigli e farà trovare la quadra fra conti e grido. No, vorrei dire solo una cosa, quando Lucaselli dice l'attaccamento alla poltrona, io credo che questo adesso, per non essere ingenerosi con il Movimento 5 Stelle, riguardi anche altre forze politiche, considerando, non dimentichiamolo mai, che c'è stato il dimezzamento dei parlamentari e quando si andrà a votare i numeri saranno molto diversi. Però io le rispondo subito perché noi siamo stati, credo, l'unico partito che dall'inizio ha chiesto che si tornasse a votare, che si facessero elezioni e che si ricomponesse. Dopodiché, in questo momento parliamo del Movimento 5 Stelle e insomma, diciamo, hanno attraversato diversi governi, quindi mi pare che nel Movimento 5 Stelle l'attaccamento alla poltrona sia più evidente e più forte rispetto ad altre composizioni. Dopodiché, torno a dire, noi abbiamo chiesto sin dall'inizio, abbiamo continuato a chiedere che si potesse tornare al voto perché riteniamo che la legittimazione parlamentare passa ovviamente attraverso la legittimazione del popolo italiano. Sì, poi, diciamo, dall'ultimo voto ad oggi, insomma, la composizione di questo Parlamento stando ai sondaggi è tutt'altra cosa, però... Faccio notare che qualche grillino è entrato anche, faccio notare che qualcuno del Movimento 5 Stelle è entrato in Fratelli d'Italia. Insomma, ci sono stati molti, molti cambiamenti. Più d'uno, in realtà, ne sono più d'uno. Diciamo, abbiamo la fila, se proprio, diciamo, dobbiamo dire... Ovviamente, oggi che siete, mi scusi, Lucaselli, il primo partito l'ha convalidato, diciamo, il nostro sondaggio di lunedì, la 7SVG. E' chiaro che siete fortemente attrattivi, mettiamola così. Ma, insomma, questo è evidente. Lando Maria Sileoni, fatemi chiedere a chi rappresenta un grande...